Buongiorno da BTV News. Oggi, 31 agosto, è San Raimondo non nato e si celebra la giornata internazionale della solidarietà istituita dall'ONU nel 2005, un'occasione per promuovere lo srancio verso il prossimo. Istituita appunto dall'ONU nel 2005, questa ricorrenza ha l'obiettivo di sensibilizzare le persone sul tema e, al contempo, di stimolare operazioni di sostegno e collaborazione nei confronti di chi vive in situazioni di disagio. Lo scopo è quindi quello di promuovere uno srancio di generosità e apertura verso il prossimo che un individuo può operare.